Più di un quintale di prodotti ittici sprovvisti dei requisiti di tracciabilità e non conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti è stato sequestrato dalla Guardia Costiera in un deposito clandestino utilizzato da una nota pescheria del centro di Bari. Ad intervenire sono stati gli ispettori del sesto centro di controllo aria pesca insieme al personale dei servizi veterinari della ASL barese. Durante gli accertamenti è emerso che l'attività svolta all'interno del locale veniva eseguita senza alcuna autorizzazione e in spregio alle più elementari regole igienico-sanitarie. A carico del titolare sono state elevate sanzioni per 4.500 euro. L'attività di repressione contro gli illeciti in materia di pesca e la commercializzazione illegale di prodotti ittici, fanno sapere dalla Guardia Costiera, proseguirà incessante anche nei prossimi giorni allo scopo di garantire il rispetto delle norme e la tutela della salute dei consumatori. Grazie. Grazie a tutti.